ciao ragazzi oggi è 13 dicembre andiamo avanti con il calendario della nyx lippi countdown sono tutti rossetti un calendario dell'avvento con tutti i rossetti e per il 13 dicembre è uscito questo qua liquid suede della casa si chiama vintage alias retro sono 18 mesi dall'apertura e sembra 1,6 ml il colore questo questo marrone è il colore questo che a me non piace proprio quindi questo farà veramente una brutta fine perché a me non piace finora altri calendari dell'avvento che mi piacessero non ne ho trovati ho trovato solo quello della kinder quello della lind eccetera che però sono mangerecci poi per il resto non ho trovato niente adesso aspetto sempre della nyx la palette in your element la numero 1 perché manca per ora solo quella spero che arrivi presto adesso non so se è arrivata perché non ci sono ancora andata quindi ok e con questo è tutto un bacione a tutti